Se state avendo problemi riguardo a driver di schede grafica oppure in questo caso anche problemi sul computer ad aprire Silent Hill 2, come puoi vedere l'errore DXG Arrow Device Remove, può essere anche a causa di driver grafici obsoleti danneggiati, quindi può essere anche un problema del surriscaldamento della scheda video che non c'è abbastanza temperatura fredda, quindi la temperatura aumenta e ci può essere anche un surriscaldamento a causa anche dell'insufficiente ventilazione, quindi accumulo di polvere, oppure il problema all'overclocking della scheda grafica, se hai per caso overclockato la tua scheda video per aumentare le prestazioni, può causare instabilità, con conseguenza l'errore DXG Arrow Device. Quindi in questo caso per risolvere il problema riguardo a questo errore, aggiorniamo la nostra scheda grafica attraverso l'errore, quindi attraverso questa pagina qua che ti ho lasciato in descrizione, vai direttamente a trovare il driver per la tua scheda grafica, quindi andremo a installare proprio un driver grafico sul tuo computer. Quindi vai a prendere la tua scheda grafica, la mia GeForce serie 30, 30 e 70, Windows 11 e vado così a trovare la mia scheda video. Driver GeForce Game Ready per i giocatori e driver Nvidia Studio per chi usa il computer per lavorare. Se invece vuoi provare altre versioni vecchie, per esempio se ti sei trovato benissimo con le altre versioni vecchie, puoi scaricare e installare gli altri driver grafici, quelli più vecchi. Quindi fino a marzo, quindi 5 marzo, sono fino a 5 marzo. Quindi scarichi e installa così questo driver grafico. Se invece vuoi un'applicazione che puoi configurare così la grafica sui giochi e aggiornare sempre i driver, c'è l'applicazione Nvidia App Beta. Scarichi e installi così la versione beta. Ed eccola qua, Nvidia App. Vado su driver, cerco così i driver da scaricare. L'ultimo che ho scaricato ed è il primo di ottobre. Una volta fatto, in descrizione ti ho lasciato anche un comando da inserire direttamente su crea così un nuovo documento. Quindi andiamo a creare il documento di testo. Una volta fatto, in descrizione ti ho lasciato così un comando da inserire direttamente su un nuovo documento di testo. Quindi vai a creare un nuovo documento di testo, tasto e tasto su desktop e fai nuovo. Documento di testo. Clicca su documento di testo. Copia quello che ti ho lasciato in descrizione, in questo modo. Con spazio qua, sotto a Windows Registry, questo qua. File, salva con nome. Tutti i file, vai a scrivere fix.rec, desktop, salva. E ci clicchiamo sopra. Chiavi e valori contenuti. Inseriti nel registro di sistema e facciamo ok. Stasso destro su Start di Windows, gestione dispositivi, scheda grafica, la tua scheda grafica. Aggiorna driver. Cerca di driver nel computer. Ci ti dà un elenco driver disponibili. Metti così l'ultimo modello. Vai avanti e installa così questo driver. Una volta fatto, devi riavviare il sistema. Quindi, per altri problemi ancora, puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.